ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di ephemeral continueremo la storia con il nostro shiba e dobbiamo cominciare l'episodio 3 dell'edizione degli amanti nello scorso episodio la strega ha fatto bere una strana pillola a shiba che non so che effetto avrà su di lui quindi cominciamo subito quest'episodio e insomma vediamo un po come sarà io sinceramente sono un po preoccupata staremo a vedere allora si intitola seguire il proprio istinto infatti shiba non voleva berla perché l'ha fatto va bene una settimana dopo la nostra visita a rai insan non sono riuscita proprio a dormire la luna piena inizierà da oggi visto che stiamo sempre assieme quando è un cagnolino carino shiba è da ieri che sta di nascosto nella mia stanza sento il suo respiro da dietro dopo essersi trasformato questo è il respiro di un cagnolino dolce carino ho paura di girarmi e di trovarmi uno spaventoso lupo oddio speriamo di no da quando mi sono svegliata sono rimasta sempre girata senza riuscire a vedere la sua forma lui ha detto che potrebbe perdere il controllo mentre un lupo perfetto così ci divora e finisce il gioco potrebbe attaccarmi pensando che sono una preda prima di andare a dormire ha scherzato dicendomi che non era una cosa possibile dato che era così sicuro era strisciato nel mio letto ma credo che anche la pillola di rai insan funzioni non posso pensare che rai insan possa sbagliare dovrei scappare se si è trasformato in un lupo enorme e se ciò avvenisse dovrei dirgli ciò che ho provato dopo la fine di questa luna piena non avrebbe dovuto abbandonare il suo sogno per me shiba dovrebbe vivere come desidera non dovrebbe ignorare i suoi sentimenti a causa mia ok mi decido e mi giro e poi trovo la sua figura sotto le coperte cavoli è più grande del solito oddio veramente cerco di raggiungere la coperta mentalmente preparata bang che cos'è questo bang dopo che gli ho tolto la coperta di dosso shiba shiba che è ma no è normale non si è trasformato come è possibile shiba sul letto non c'è né un enorme lupo né un lupo piccolo ma c'è shiba nella sua forma umana perché non mi dire che rai insan ha fallito rai insan ha detto che avremmo visto i risultati una volta giunti giorni di luna piena ma shiba non si è trasformato quindi è difficile pensare che rai insan abbia sbagliato ma aspetta anche se ha fallito è strano che shiba non si sia trasformato in un lupo no che che significa sto fissando sbigottita shiba quando ritorno alla realtà e lo scuoto delicatamente shiba shiba svegliati shiba shiba dopo averlo scosso shiba apre lentamente gli occhi poi si stiracchia e si mette in posizione come un lupo che è questo wine? wine! wine! wine appunto shiba salta su di me e inizia a leccarmi la faccia contento ok che cosa sta succedendo? si sta comportando come un animale come al solito peccato che è un essere umano però shiba che fai? allontanati! wine! ma sa dire solo wine che è? ma mi stai prendendo in giro? shiba! shiba? lo allontano con forza non prendermi in giro far finta di essere un cane non è da te shiba sembra com'è uff uff oh mio oddio cosa gli è successo? no vabbè non ci sto credendo ma stiamo scherzando è appunto ma che è? shiba? non ci credo uff 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 cioè un attimo allora un essere umano che abbaia tipo vabbè ti sei trasformato ma solo internamente? uff uff ho la sensazione che se mai avesse avuto una coda ora starebbe scodinsolando non ci credo ma questo è quello che desidera shiba? è difficile da capire ma ora internamente lui è un lupo anche se non si sta comportando proprio come un lupo no 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 non ci posso credere era così ossessionato dall'idea di essere un lupo forte ma che diventasse carino interiormente pensandoci è un po' divertente uff guardate allo specchio non ho tempo per questo shiba puoi aspettare un attimo andrò a far visita da Rainsan e poi torno qui uff anche perché cosa faccio se rimarrai per sempre così? non potrai neanche andare a lezione ah giusto le lezioni che faccio? di solito lo porto nel giardino posteriore durante i giorni di luna piena ma se qualcuno lo vedesse shiba si arrabbierebbe di sicuro uff lui ancora continua a non capire nulla però non so quando tornerà normale d'altra parte sarebbe rischioso portarlo fuori dal dormitorio in ogni caso se viene visto da altri studenti lo noteranno e la scuola non ci permette di uscire durante la settimana non penso che riuscirei a svignarmela con lui in questa condizione mi sa che non resta che prendersi un giorno di pausa uff no no è un'emergenza non ci si può far nulla e quindi ho lasciato un messaggio a Erika e sono rimasta chiusa in camera con shiba ma che cos'è questa immagine? adoro vabbè d'accordo ah no shiba shiba per favore allontanati smettila di leccarmi uff shiba continua a saltarmi addosso volendo essere accarezzato vabbè ora si trova sopra di me le lezioni dovrebbero finire fra poco ma non so cosa succederà d'ora in poi shiba shiba smettila basta guarda che mi arrabbio uff shiba basta oddio chi è mo oh è naki beh la porta è aperta è pericoloso così bisogna dirglielo oddio non può essere chloe ti senti bene? eeeh uff non sono scioccati eeeh ad aver aperto la porta sono erika con una faccia sbigottita e naghi che si sta coprendo la faccia con le mani naghi mi guarda confuso sbirciando tra le dita ma che succede? eeeh erika naghi wow wow chloe shiba non potete qui pensavo che non ti sentissi bene oh shiba si sta approfittando di te mentre sei ammalata no 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 c'è un motivo chi ha? shiba smettila non leccarmi uff mi fai il solletico no shiba non devi fare così in pubblico beh non che mi interessi ma non dovresti saltare lezioni per queste cose ma ti ho detto che non è come eeeh ok allora non dico più nulla scusatemi avrei dovuto immaginarlo eeeh sembra che tu abbia perso il controllo e a shiba sembra non importardiene scusate per l'intromissione ehi erika erika sicura? dovremmo fare qualcosa se non fate rumori forti o noi non lo diciamo a nessuno non ci sono problemi ehi ma andiamo nessuno vuole intromettersi nelle avventure sentimentali degli amici avventure sentimentali loro si stanno facendo dei film e non hanno capito nulla ehi non tirarmi erika ehi ragazzi aspettate non appena provo a fermarli erika e naghi se ne vanno via hanno completamente frainteso la situazione posso anche spiegargli dopo ciò che sta succedendo ma se shiba lo viene a sapere meglio non pensarci ora shiba è stato quello che ha fatto fraintendere la situazione uof shiba non leccarmi quando c'è qualcuno qui uof non lo capisci eh già oh meno male che non erano rei o natsume sarebbe stato peggio essere visti da loro boom qualcuno ha riaperto la porta boom ehi shiba vedo shiba che corre spedito nel corridoio come un cane oh mio dio cioè immaginatevi la scena praticamente lui ha aperto la porta è uscito fuori e sta correndo a quattro zampe però è un uomo cioè un ragazzo che corre a quattro zampe cioè vabbè perché mi sto immaginando certe cose dove vai? qualcuno potrebbe vederlo shiba oddio lui sento qualcuno avvicinarsi da dietro eh che cos'è questo tom ma che tom vabbè uof ah sei tu shiba perché ti comporti così? hai queste abitudini? uof ma nessuno lo senta abbagliare ma che ma oggi è la luna piena perché sei ancora in forma umana uof ehi e smettila con queste brutte abitudini non voglio ragazzi così vicino a me e spinge shiba lontano da lui ehi mi hai sentito? scansati uof uof ma che diavolo ma guardate dov'è finito shiba? ah ecco ti shiba e e natsume? ah ecco un'altra seccatura eh ehi oddio c'è il rei che state facendo? un cane? e poi una mummia? un'altra seccatura che cosa? shiba scendi da natsume accuccia uof ma che scherzo è questo? ah finalmente che brutta abitudine o meglio che cavolo uof hai dunque perso la razionalità? oggi è la luna piena perché non ti sei trasformato? uof sembra che interiormente si sia trasformato anche se si sta comportando da cane beh in origine era un cane ah sì pensavo fosse un lupo ah 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 ecco natsume rei questa cosa ha serie motivazioni uof smetti la shiba non leccarmi non so che stia succedendo ma non mi va proprio di farvi compagnia ehi spiegati perché non si è trasformato ecco dunque insomma ci sono delle ragioni ben profonde allora spiegale queste ragioni ecco dunque ehi perché cavolo stai sghegnazzando? niente sono solo sorpreso che un vampiro così vanitoso si stia interessando di un lupo non mi importa nulla di quelli che stanno nelle classi inferiori maledetto ti stai prendendo gioco di me? eh ma che dici quando mai? ah che noia stai dicendo che sono noioso? non te ne eri accorto? che divertente se hai qualcosa da dire vuoi dire un ordine o altro? maledetto non so bene ma si è creata una situazione alquanto pericolosa ad ogni modo oddio allora scappo via come cancello la mia presenza? cosa vuol dire? cosa intendono con precisione con questa frase? allora sinceramente siccome non so che cosa voglia dire con precisione io faccio la prima ma scappo via perché boh la seconda non lo so che vuol di cancello vabbè scappo via dai dovremmo scappare via chiamo Shiba piano e provo a scappare ma aspetta eh dove vai? rispondi alla mia domanda prima cavoli dovevamo scappare quando stavano litigando ehi Shiba e tu donna zombie devi spiegare che sta succedendo ecco uff che faccio? no non mi dite che è finito così ma no dai è finito in questo modo l'episodio e quindi continuerà immagino nel prossimo vediamo quello che ci dicono Shiba ha perso la ragione e si comporta seguendo il suo istinto non è una buona cosa questa una mano salvifica viene offerta all'eroina che non può evitare il rei ok non vedo l'ora di giocare il prossimo episodio io sinceramente spero che Shiba ritorni normale maledetta strega io lo sapevo che non portava nulla di buono questa cosa ok staremo a vedere fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato voi giù nei commenti se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un bel like se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi giochi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao